Sì, assolutamente sembra uno spot perché quando poi l'opinione pubblica si preoccupa, giustamente il sindaco cerca di dare delle soluzioni immediate, ma che non sono però delle soluzioni a lungo termine, perché questo problema non c'è dall'altro ieri, quando è successo questo ultimo fatto. Io faccio la pendolare, passo tutti i giorni in stazione centrale a Milano e non serve andare dopo le 8 di sera, basta anche la mattina e si passa in mezzo a centinaia di persone che sono lì a bivaccare, oltretutto questa è una situazione grave, non solo sulla città di Milano, io sono bergamasca, proprio questa notte c'è stata una maxi operazione, un blitz incredibile fatto dalla compagnia di Carabiniere di Treviglio, gli agenti sono volenterosi, ovviamente mancano però le risorse sia a livello di uomini che a livello di uomini. Le dico solo che questa caserma, solo pochi giorni fa è stata ristrutturata grazie all'aiuto di volontari e di sindaci dai paesi vicini, perché non avevano i soldi neanche per pitturare le pareti, ora può capire che cosa possono avere come mezzi per affrontare queste emergenze, però il problema c'è da anni, deve essere risolto garantendo una sicurezza nelle nostre città, in particolare nei centri più grandi, costante, giorno, notte e soprattutto la certezza della pena, perché se poi uno fa un blitz con 150 uomini, e il giorno dopo sono tutti fuori, capisce che c'è anche un po' di rassegnazione anche da parte delle forze dell'ordine.